Dario Actis Foglizzo, assessore al comune di Caluso, questo mercato al sabato un successo? Io direi che è stata un'idea vincente questo mercato, che l'abbiamo voluto con l'amministrazione e direi che è stato, come posso dire, un fortissimo aiuto con l'azienda Danilo Attis Perinetto. Abbiamo portato avanti questo mercato perché non c'era ancora nella zona di Caluso e abbiamo detto facciamo questa cosa, vediamo come va e diciamo che siamo contentissimi. Di metterlo il sabato, visto il tradizionale mercato del lunedì, è stata un'idea vincente? Ma sì, direi sì, perché lunedì c'è già un mercato e questo è un mercato dei produttori, produttori chilometri zero, che ci sono anche diverse zone, non solo del comune di Caluso. Roberto Pinna, vicepresidente dell'associazione Sapori Contadini, che associazione è? Allora, un'associazione che è nata alcuni anni fa, siamo tutti produttori, produttori chilometri zero e siamo al mercato di Caluso ormai da diverso tempo, quindi sono tre anni. Abbiamo la presenza sul mercato di varie categorie di prodotti, abbiamo dalle verdure al vino, ai formaggi freschi, stagionati, il miele e le confetture, quindi copriamo diverse tipologie di prodotti per dare ai nostri fruitori un servizio migliore. Abbiamo sul mercato poi 13 banchi, di cui tre si alternano perché sono stagionali, per dare copertura su tutti i prodotti che comunque ci sono in stagione.